Oggi la tipizzazione molecolare è essenziale per definire il percorso terapeutico di un paziente con tumore al polmone. Non è possibile prendere una decisione terapeutica se noi non conosciamo con esattezza quelle che sono le caratteristiche molecolari di un paziente affetto da questo tipo di patologia. Al momento nel nostro istituto stiamo coordinando un progetto che è supportato dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dall'IRC, che prevede lo studio di tutti quei fattori biologici che presiedono alla sensibilità e alla resistenza di farmaci rivolti nei confronti dei pazienti che hanno il riarrangiamento di ROS1 oppure che presentano le amplificazioni o la mutazione del gene MET. In questo progetto noi abbiamo già completato la fase retrospettiva, quindi abbiamo già completato le analisi che sono previste in un gruppo di pazienti già trattati in precedenza e siamo partiti con l'arruolamento prospettico dei pazienti. Lo studio prevediamo di completarlo nell'arco di due anni.